Quando si corre, quando siamo immersi tra la folla in salita, in quei momenti si provano delle emozioni veramente forti. Sono molto legato al Mortirolo che è la salita di Pantani il mio idolo e riuscire a passare primo in una giornata epica del Giro d'Italia è stata veramente qualcosa di emozionante. La maglia gialla al Tour è stato un momento particolare perché subito dopo la linea d'arrivo ero parecchio arrabbiato perché comunque ero arrivato secondo di tappa e non ero riuscito a vincere. Però poi dopo cinque dieci minuti ho scoperto che ero diventato il nuovo leader della corsa e quindi la maglia gialla in un attimo quella rabbia si è trasformata nella felicità più bella. Il mio rapporto con il caffè è sicuramente un rapporto d'amore perché bere il caffè per me è un rito particolare sia prima di ogni gara, prima di ogni allenamento. È un momento che mi rilassa e quindi me lo godo veramente fino in fondo. Grazie. 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 Grazie.